Ben trovati a tutti da parte di Marco Fabriani. Eccoci insieme. Oggi parliamo di carceri e ci occupiamo di covid e sicurezza all'interno dei penitenziari della nostra regione. Sono 14. C'è anche il problema legato al sovraffollamento perché ci sono circa 6.500 detenuti. Quando invece i penitenziari ne possono accogliere più o meno 5.200. Per parlare di questo e altro abbiamo con noi Donato e Capece che è segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria. Ha un passato storico perché è stato anche comandante del carcere di Regina Celi. Comandante, segretario, ben trovato. Grazie dell'invito anche a voi. Ben trovati. Allora iniziamo subito parlando della vicenda covid. Come sono i contagi nei carceri della nostra regione? Purtroppo devo dire che come in tutte le altre parti d'Italia i contagi crescono anche se è tutto abbastanza sotto controllo perché sono contagiati i ristretti ma sono contagiati anche i poliziotti penitenziari. Provvedimenti tampone sono stati presi, sono stati creati nelle sezioni covid dove vengono isolati coloro che sono contagiati. È chiaro però che l'amministrazione è in ritardo. Dispositivi di protezione individuali andavano forniti ad hoc già nella prima ondata. Adesso comunque la situazione è sotto controllo e dobbiamo stare attenti che non si propaghi di più nell'ambito delle varie carceri che sono presenti nel Lazio e soprattutto nel Roma capitale. Ecco comandante, come fate a gestire il tutto con questo sovraffollamento? Perché poi voi avete anche un numero inferiore di agenti di polizia penitenziaria. Questo è un altro dei problemi, la carenza di organico in tutti gli istituti. L'amministrazione e soprattutto la polizia penitenziaria hanno creato in tutti gli istituti delle sezioni denominate covid, che sono covid o pre-covid. Pre-covid sono quelle sezioni o celle dove vengono destinati tutti coloro che devono fare la quarantena. Sezioni covid invece sono luoghi dove vengono celle dove vengono isolati coloro che sono sintomatici e quindi scoperti affetti dal covid. Ci sono nell'ambito degli istituti il controllo all'ingresso attraverso il triage, quindi il prelievole dalla temperatura, le osservazioni. Diciamo che il servizio sanitario è molto attento, anche se bisogna fare sempre molta attenzione, soprattutto nei detenuti arrestati oppure delle persone che vengono tradotti da un istituto all'altro. La polizia penitenziaria è quella un po' più scoperta perché poi comunque noi dobbiamo stare vicini ai detenuti, dobbiamo fare le perquisizioni e quindi il contagio è dietro l'angolo, anche perché se fornire ai poliziotti penitenziari di appositi dispositivi particolari come le tute che possono prevenire è complicato perché l'amministrazione è in notevole ritardo. Quindi più attenzione, più sicurezza. Sono stati firmati dei protocolli di intesi locali e nazionali sul vergenza sanitaria, però per mettere in sicurezza la polizia penitenziaria è necessario che l'amministrazione investa risorse finanziarie per acquistare quelli che sono i dispositivi di sicurezza. Più tamboni, più prevenzione e soprattutto più poliziotti che facciano contemporaneamente il controllo a 360 gradi. Nel carcere non è possibile distanziamento sociale, sappiamo bene che noi dobbiamo stare vicino e controllare i soggetti detenuti, però vogliamo essere tutelati attraverso la messa in sicurezza di tutti i poliziotti che fanno servizio nelle sezioni detentive. Senta, Comandante Capece, dal punto di vista invece della sicurezza, nei giorni scorsi un altro detenuto è fuggito dal penitenziario di Re Bibbia, non è la prima volta. Voi abbiamo parlato di un organico che grida vendetta il vostro, siete in pochi, ci sono assunzioni, come vi state organizzando da questo punto di vista? Noi abbiamo lanciato l'allarme già qualche mese fa all'amministrazione centrale, al dipartimento di amministrazione penitenziaria, perché proprio su Roma, Re Bibbia, sia reclusione sia nuovo complesso, abbiamo una grave carenza di organico. Noi ce la mettiamo tutta come polizia penitenziaria, ma non riusciamo, perché quando in istituto come la casa di reclusione ci sono solo 12 unità di servizio di pomeriggio o di notte, capite bene che è impossibile, perché non rispettiamo nemmeno i livelli minimi di sicurezza, quindi più uomini, più risorse, più tecnologia a disposizione della polizia penitenziaria. Il governo con i recovery plan, con tutto quello quanto è possibile, devono investire per prendere questo servizio alla società che è demandato a noi, che è la sicurezza dei cittadini. Grazie al dottor Donato Ciappe, ce lo ricordo, il segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Grazie comandante. Posso dire direttore uno slogan che è caro al sindacato, al SAP, res non verba, fatti non parole. Attraverso la vostra emittente mi consente di far arrivare a tutti i poliziotti penitenziari che oggi presso il servizio nei varie carceri un saluto, una vicinanza e la nostra solidarietà. Il SAP c'è e non moleremo mai. Grazie comandante e buon lavoro. Grazie. Grazie. Dunque era il comandante, lo ricordo è stato comandante del carcere di Regina Celi, lo storico carcere romano. Fermiamoci qui, un grazie a voi tutti da Marco Fabriani. Grazie.